Amici di Kenwood Cooking Blog, bentornati alla rubrica Cookbook. Oggi vi parliamo del libro Crostate, edito da Guido Tommasi Editore. Questo libro fa parte della collana Piccoli Spuntini, che racchiude diversi quaderni di cucina monotematici molto interessanti. Se seguite il blog da un po' di tempo, conoscete tutti la nostra passione per i dolci e le torte. La scelta di questo libro è per specializzarci nella preparazione e creazione di crostate. Come recita il retro di copertina del libro, la crostata sa di casa. Come non essere concordi, quando vediamo una crostata pensiamo subito ad un dolce fatto in casa, magari a quello fatto dalla nostra nonna o dalla nostra mamma. Sfogliando questo libro, nel reparto cucina della nostra biblioteca di fiducia, scorriamo velocemente le prime pagine di introduzione, per curiosare subito tra le ricette. E immediatamente veniamo conquistati dagli abbinamenti particolari e inusuali, e dalle foto invitanti che accompagnano tutte le ricette, e ci metto subito sul gusto e sulla voglia di addentarne una. Questo libro deve assolutamente venire a casa con noi, anche perché una crostata è sempre adatta per ogni occasione, ad esempio per una merenda, la colazione, o come regalo da portare agli amici per cena. La parte bella della crostata è che dopo averne preparato la base, potete lasciare spazio alla fantasia e un intero bouquet di gusti e sapori. Il libro è suddiviso in capitoli, che offrono diversi spunti per la preparazione di crostate differenti, da quelle con la frutta di stagione a quelle con la confettura, magari preparate in casa con il nostro Kenwood, o ancora quelle da noi preferite, le crostate al cioccolato, o quelle con creme e farciture, per lasciare per ultime quelle cotte in bianco, cioè preparate il guscio e farcite con creme e mousse dai gusti differenti. Tra le numerose ricette a disposizione sicuramente ci hanno incuriosito le diverse varianti di frolla, come quelle integrale, al kamut e la golosissima crostata al cacao con ganache al cioccolato, o ancora la più raffinata crostata di ricotta e uvetta. Ce ne sono veramente per tutti i gusti, 30 ricette di crostate caratterizzate ognuna da un piccolo aneddoto, come ad esempio la crostata di fidanzamento di Silvia. Crostate, crostatine e tartellette sempre con le mani in pasta, per creare deliziosi dolci da gustare in diverse occasioni. Se poi pensiamo che impastando con il Kenwood a noi rimane solo più la gioia di creare la nostra farcitura preferita, fare crostate diventerà sicuramente un gioco da ragazzi. Noi abbiamo già aggiunto questo libro alla nostra libreria in cucina, e voi cosa aspettate a farlo? Non diteci che non amate le crostate perché non vi crediamo. La rubrica Cookbook termina qui, ci rivediamo la prossima settimana con un altro libro. Se ti è piaciuta, clicca su mi piace sotto al video. Iscriviti al mio canale di YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Seguici su Facebook all'indirizzo qua sotto. Troverai una community di appassionati di cucina con il Kenwood Cooking Chef. Quale altra ricetta vuoi preparare? Quale altra ricetta vuoi preparare? Quale altra ricetta vuoi preparare?